Ma tu è un cavallo No, mi è morto L'unico che avevo A quanto stiamo, raga? Non è possibile A quanto stiamo? Quanti ne sono morti? Quanti ne ho acchiappati? 4 Non è vivo, no Serie di uccisioni interrotte Sto dicendo, a me piace molto Conoscere le persone E tu sei la tipica ragazza Che studia a Milano Liceo Quando sono stata in Clash? Diciamo che non è che abbiamo deciso molto Della mia vita, eh Liceo, università Cosa? 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 No Mi robiamo, non mi smettete Raccordate di voi Scusate Perché non ti metti a piangere? Perché sono forte Sarebbe la quarta nel giro di quattro settimane Che è successo? È possibile che c'ha sto potere? No È possibile che c'ha sto potere, Paolo? Hai fatto piangere l'altra cassa? Vabbè, è allergico a Mauro Ma la essa non ci nemmeno ho provato però Grazie Grazie a tutti